Nessuna soluzione a breve termine in vista per le canne depositate sull'allerire del litorale sciclitano dal nubifragio dello scorso gennaio al punto da indurre l'onorevole Orazio Raguse ed il sindaco di Scicli Enzo Gennone a scrivere una lettera aperta al responsabile regionale del Dipartimento della Protezione Civile Calogero Foti. Non si comprendono le ragioni, si legge nella nota congiunta, per cui a distanza di alcune settimane dal vertice a Palermo tutto si è tornato a tacere in maniera preoccupante, mentre qualcuno, dopo l'alluvione dello scorso mese di gennaio ha deciso di risolvere la cosa a modo proprio incendiando parte dell'ingente materiale depositato sulla spiaggia. Durante la conferenza dei servizi, continuano l'onorevole Raguse ed il sindaco Gennone, erano state esaminate diverse soluzioni, si era preso atto della disponibilità del lato Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione e Rifiuti di Ragusa, organo competente in materia, a procedere alla raccolta e smaltimento delle canne previa ordinanza del Libero Consorzio di Ragusa e si era persino detto di creare una specifica area di stoccaggio all'interno della discarica di Ragusa. Ma tutt'oggi latitano i risultati concreti. Siccome la bella stagione incombe il territorio continuo ad attirare visitatori per i luoghi di Montalbano, oltre che per il fascino dei propri monumenti, non è possibile che ai turisti, conclude la nota, si presenti il litorale in queste condizioni. Si auspicano dunque segnali celeri da Palermo.